Fra tre mesi la città di Taranto sarà chiamata alle urne per scegliere il suo nuovo sindaco. La situazione degli aspiranti alla poltrona di primo cittadino muta continuamente. Non circola più, ad esempio, il nome dell'ex procuratore Francesco Sebastio, che potrebbe essere dunque definitivamente fuori dai giochi, senza una coalizione che lo sostiene. Il presidente dell'Ordine dei Medici, Cosimo Nume, indicato quale espressione del governatore di Puglia, Emiliano, e del consigliere regionale Gianni Liviano, non ha dato la sua disponibilità. Ha annunciato di essere della partita, ma ancora non ha ufficializzato la sua candidatura a Piero Bitetti, presidente del Consiglio Comunale del PD, mentre per Gianni Azzaro è già primavera. Il vice sindaco, Lucio Lonoce, aspettava le primarie, che però non si faranno. Il consigliere comunale, Aldo Renna, ha fatto dietro front. Per gli ambientalisti corre Vincenzo Fornaro, mentre Fabio Matacchiera ha ritirato la propria candidatura perché al suo comizio la piazza non ha risposto in maniera soddisfacente. I pentastellati hanno indicato Alessandro Bello, contestato sui social per le sue presunte dichiarazioni omofobe. La candidatura più fresca è quella di Massimo Brandimarte, che accettando l'invito a partecipare alla competizione elettorale ricevuto dagli SDS, ha rinunciato ad un'altra candidatura altrettanto prestigiosa, quella di garante regionale dei detenuti che lo vedeva favorito. Ha messo da parte dunque gli interessi personali, affidandosi a Dio in questa appena iniziata campagna elettorale, come ha scritto nella lettera in cui ha ufficializzato la sua candidatura. Massimo Brandimarte appare quale ideale successore di Pazio Stefano, la guida della città. Una lunga carriera la sua, che lo ha visto pretore civile, penale del lavoro, giudice per le indagini preliminarie di pretura e di tribunale, giudice tutelare, garante dei diritti dei minorenni e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli. I suoi ideali sono verità, giustizia, rispetto dell'ambiente del territorio, legalità, onestà, solidarietà, lotta al sprechi e privilegi. I giochi sono aperti, l'ultima parola, come sempre, spetta ai cittadini.